È un dannunzio, anzi le devo dire che l'idea era di sottotitolarlo Una vita di dannunzio. Poi l'editore ha ritenuto che questo fosse un sistema un po' troppo anglosassone, ma la mia intenzione è di assoluta umiltà di dannunzio e qui scomodiamo Pirandello, ce ne sono uno, mille, centomila. Io credo che in realtà, per quello che mi sono accorto anche in queste presentazioni che ho fatto in giro per l'Italia ormai da diversi mesi, c'è sempre una costante di interesse per dannunzio e c'è un pubblico che si rinnova anche attraverso i giovani, devono avere gli insegnanti adatti, ma se li hanno si rinnova. Quindi direi che l'interesse per dannunzio non è mai venuto meno. Certo, ci sono molti pregiudizi, molti luoghi comuni e anche, mi faccia dire, molte distorsioni intorno al personaggio che gli hanno nociuto. Direi che anche Moderno, per fattori intrinseci alla sua opera, alla sua produzione, la sua poesia, la sua prosa e perfino il suo teatro, hanno ancora qualcosa da dirci di molto essenziale e di molto vicino alla nostra sensibilità.